Al B.A.N.O. Ricorda la figlia Ilenia prima o poi ti raggiungerò. Punto. Romina Carrisi è finalmente ritornata sull'Instagram dopo una lunga assenza e pausa dai social, ma cos'è successo alla figlia di Albano? Ecco la verità, amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l'occasione. Romina Carrisi è ritornata su Instagram dopo una lunga assenza dai social, ecco cos'è successo. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, Romina è la figlia di Albano Carrisi e di Romina Power è nata a Cellino San Marco, ma gran parte della sua vita l'ha trascorsa negli Stati Uniti d'America. In seguito è ritornata in Italia dove ha cominciato a lavorare anche come commessa, ma a causa della popolarità familiare ha dovuto dire addio al suo lavoro. Per quanto riguarda le sue apparizioni televisive in molti la ricorderanno in Don Matteo, anche se ha presenziato soltanto per poco e per il resto non ama stare sotto ai riflettori e per di più preferisce non andare in tv perché le fanno domande soltanto sui suoi genitori. Romina Carrisi Instagram, ecco perché la figlia di Albano era scomparsa dai social. Sicuramente i tantissimi fan e follower di Romina Carrisi si saranno accorti dell'assenza della figlia di Albano dai social ed in modo particolare dai Instagram, ma cos'è successo? Dopo diverso tempo, la Carrisi ha deciso di spiegare ai suoi tanti seguaci il motivo della sua assenza con una serie di stories sulla sua pagina Instagram. La figlia di Albano ha spiegato, buongiorno anzitutto, so che pensavate che mi fossi trasferita in una capanna in Timbuktu, ma la verità è che mi sono voluta prendere una piccola pausa da Instagram, poi si è rotto il cellulare, ho completamente dimenticato la password di Instagram, ritrovarli è stata veramente un'odissea. Infine, Romina ringrazia tutti i suoi seguaci che le hanno scritto messaggi durante la sua assenza. Romina Carrisi, dove abita oggi? La figlia di Albano e Romina è molto anticonvenzionale durante una lunga intervista a Vanity Fair ha spiegato di non volere un posto fisso dove abitare perché «sono io la mia casa». Secondo alcune indiscrezioni, infatti, pare che la ragazza abiti per diversi mesi negli Stati Uniti d'America, precisamente in California, ma spesso sta anche da suo papà a Cellino San Marco e va a trovare sua sorella Crystal in Croazia. Grazie. Grazie.